Il Molise è una delle regioni italiane in cui l'incidenza delle morti sul lavoro è maggiore. Fino a qualche mese fa la nostra regione era collocata in fascia rossa con una frequenza superiore al 125 per cento rispetto alla media nazionale insieme a Calabria, Umbria, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Da ottobre invece la situazione ha subito un miglioramento con il passaggio in zona arancione ma con un indice comunque superiore a quello medio italiano. Per questo motivo Confartigianato Imprese Molise ha voluto siglare un protocollo per incrementare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Come spiegato dal presidente Romolo Dorazio si tratta di un'iniziativa intrapresa con una società specializzata in questo settore. In Italia sono circa 700 i morti sui luoghi di lavoro e il Molise purtroppo è una delle regioni con il più alto tasso di incidenza quindi partendo da questo dato ci siamo chiesti cosa potessimo fare come ente datoriale perché quello dei morti sui luoghi di lavoro non è un tema che riguarda soltanto i sindacati quindi lato lavoratori ma riguarda anche le imprese soprattutto le imprese e quindi concretamente abbiamo messo in atto questo protocollo con un'importante società di certificazione di Milano la Quaser Certificazioni che prevede la somministrazione alle aziende aderenti a Confartigianato di un disciplinare una sorta di audit interno attraverso il quale capire il livello di sicurezza presente all'interno dell'impresa. In momento in cui questo livello di sicurezza dovesse risultare inadeguato a quel punto si procede alla fase B che è quella della vera e propria certificazione e quindi della messa in regola delle aziende. È uno strumento concreto che vogliamo utilizzare per le imprese per capire effettivamente il livello di sicurezza perché molto spesso l'imprenditore e l'impresa crede di rispettare tutti gli standard ma poi quando succedono gli incidenti si va a scoprire che effettivamente ci sono delle carenze, delle lacune nella sicurezza. Gli associati potranno aderire al protocollo d'intesa beneficiando di una tariffa particolarmente vantaggiosa. Con una tariffa eccessivamente e fortemente scontata per cui più di un terzo rispetto alla tariffa normale per cui cerchiamo di somministrarlo grazie a questa convenzione una tariffa davvero agevolatissima.